20esimo Memorial, Mario Vecchiato di Pugilato, la box olimpica al Palasport, Mario Vecchiato, Pugile campionissimo friulano a cui è stato dedicato nel 1989 questo Memorial che l'Associazione Pugilistica Udinese ha portato avanti tutti questi anni. Oggi, oltre ai due match da professionisti che vedono sul ring Francesco Zilli e Michele Broili rispettivamente contro Antonio Gualtieri e Yuri Sampirisi, abbiamo l'opportunità anche di vedere box olimpica giovanile, quindi categorie giovanili e qui ragazzi e anche alcuni pugili elite direttanti sul ring in questo istante, ringrazio Alberto per le immagini che ci arrivano direttamente dal Benedetti, ci sono in divisa rossa e quindi all'angolo rosso il triestino Simone Tomasin arriva dalla pugilistica triestina Pino Culotte, opposto all'angolo blu e quindi divisa blu a Denis Canxiang della box Riviera del Brenta. Questi ragazzi, categoria schoolboy sui 72 kg, combattono sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo l'una. Quindi è già finito il primo round, è un minuto e mezzo molto rapido, si gioca soprattutto sulla istantaneità dei colpi. Prima ripresa direi di studio, ho visto un po' meglio Tomasin, ma è chiaro che poi solo al cartellino dei giudici capiremo chi dei due potrà essere vittorioso, entrambi Tomasin e Canxiang sono esponenti di scuole pugilistiche importantissime, in primo luogo la Pino Culotte di Trieste, che è da decenni il punto di riferimento per tutta l'attività pugilistica che si svolge nella città giuliana sotto San Giusto. In bocca al lupo ovviamente a Simone Tomasin, così come anche Denis Canxiang per il proseguio dell'attività da pugile. Inizia la seconda ripresa, entrambi i pugili stessa guardia, più o meno le stesse lunghezze dei colpi che vanno a Bossaglio, mentre è andato a segno con un jab Tomasin, ma la risposta in sequenza di Canxiang con una serie di colpi al caschetto, legano molto i due ragazzi, ricordo categoria schoolboy. Tomasin ha già disputato quattro match in carriera, ne ha vinto uno, ne ha persi tre, mentre Canxiang ne ha addirittura dieci già in carriera, ha sette persi, due vinti e uno pareggiato. Pugili inesperti, infatti l'arbitro avrà il suo bel da fare per mantenere l'incontro su criteri della regolarità, ma è anche ovvio, buon colpo di incontro di Tomasin. Viene chiesto a Canxiang di tenere testa alta, Tomasin più volitivo, è lui che tiene il centro del ring e costringendo l'avversario a girare a largo, una serie di colpi al corpo, un destro-sinistro-destro di Canxiang. Altri due colpi d'incontro, non se le risparmiano i due ragazzi sul ring, ci stanno anche divertendo, l'arbitro però ha fermato il tempo per ricordare a Canxiang di non avanzare troppo con la testa. Canxiang agisce con una serie di colpi ben parati e anzi Tomasin chiude il secondo round all'attacco. sta anche arrivando un discreto pubblico al Palasport Benedetti per questo 28esimo Memorial Mario Vecchiatto. La delusione dei più a inizio serata è stata quella di sapere che Vlad Popescu, il portacolori della pugilistica udinese, Neo Pro, non potrà scendere, salire sul ring, quindi scendere sull'arena e salire sul ring questa sera nel suo secondo incontro da professionista a causa di un infortunio, uno stiramento, una distorsione a livello lombare. Un peccato perché ci sarebbe piaciuto vedere Vlad Popescu al combattimento, ma adesso godiamoci questa terza e ultima ripresa tra Tomasin e Canxiang. Ricordiamo il match inaugurale del 28esimo Memorial Mario Vecchiatto, categoria schoolboy. Canxiang, forse perché sa di essere leggermente in ritardo nel cartellino, attacca a splombattuto, è partito anche con un destro d'incontro interessante. Alto colpo, un jab sinistro di Canxiang che Tomasin ha comunque incassato. Canxiang sta entrando nella guardia di Tomasin con due diretti che il pugile triestino ha subito. Molto bene il ragazzo Veneto in questo inizio di terza ripresa, in conclusione di match, perché questa è la terza e ultima, terza e ultimo round tra Simone Tomasin e Denis Canxiang. Ancora il Veneto, piuttosto stanco Tomasin in questa fase dell'incontro. Eh, questa ripresa Tomasin mi sta lasciando un po' proprio perché mi aveva convinto molto di più nelle prime due riprese, poi evidentemente i colpi di Canxiang lo hanno un po' fiaccato in questo terzo round. sta per chiudersi l'incontro, questo terzo round ampiamente favorevole a Canxiang. Vediamo se Tomasin ha un impeto d'orgoglio in finale di match. Comunque applausi per entrambi i ragazzi che adesso andranno ad ascoltare il verdetto dei giudici. E dunque è arrivato anche il verdetto, Simone Tomasin in rosso, Denis Canxiang in blu. E di fatti vince Denis Canxiang, autore di un terzo round assolutamente di pregevole fattura. Una serie di colpi importanti andati a segno per il pugile portacolori della box Riviera del Brenta, che dunque batte Simone Tomasin della Pinoculot di Trieste. Secondo match in programma al 28esimo Memorial, Mario Vecchiato sul ring, all'angolo rosso e con la divisa rossa c'è Francesco, Luciano Domenicali del Fearless Boxing Team di Codroipo opposto al triestino Francesco Petronio del Boxing Club Trieste 2006. Questa categoria Iaulf sui 69 kg. Questo match viaggia sulla distanza delle tre riprese da tre minuti l'una. Domenicali, quindi si allena Codroipo con il maestro Marchetto, ha al suo attivo dieci match, dei quali 4 vinti, 4 persi e 2 pareggiati, mentre Francesco Petronio ha disputato finora 23 match in carriera, 12 persi, 8 vinti e 3 pareggiati. Sono pugili categoria Iaulf e quindi già con una discreta esperienza di ring e anche con cognizioni tecniche affinate nel corso degli allenamenti. in due scuole di pugilato interessanti, la FIERless Boxing Team di Codroipo conosciuta soprattutto per essere l'alma mater di Alessandro Zuliani che ha fondato questo club a Zompicchia e ha poi portato a Codroipo ad allenarsi i campioni del calibro di Brunet Zamora, ha costruito anche il titolo italiano dei pesimedi di Luca Esposito e ora in Luciano Domenicari che ha un fisico da peso medio su 69 kg in questi casi i due pugili si stanno abbastanza equivalendo per quanto riguarda le dimensioni, la lunghezza dei pugni è più o meno quella forse Domenicari è un po' più compatto mentre Petronio ha braccia più lunghe ma stiamo veramente parlando di dettagli da un punto di vista stilistico diciamo entrambi da affinare che le stanno dando senza ragionarci sopra tanti colpi, molti dei quali a vuoto attacca Petronio prova a rispondere Domenicari che comunque tiene il centro del ring adesso va a segno con un buon sinistro poi un destro d'incontro che si stampa sul caschetto di Petronio finisce qui la prima ripresa direi di studio sostanzialmente in parità forse forse dico forse Petronio qualche colpo in più nel corso della serata avremo modo di vedere anche Francesco Zilli contro il Tonio Gualtieri e Michele Broili contro Iuri Sampirisi due match tra professionisti Zilli è un super welter mentre peso piuma Michele Broili inizia la seconda ripesa tra Francesco Petronio in blu e Luciano Domenicali in rosso categoria Yauf sui 69 kg e Petronio che adesso al centro del ring con Domenicali che prova ad uscire un sinistro d'incontro poi guardia assolutamente aperta per entrambi soprattutto per il pugile Codro Iperge che adesso va a segno con una combinazione destro-sinistro risponde Petronio con Domenicali che ora lega alto gancio destro di Domenicali un sinistro d'incontro prova Petronio a scaldinare la guardia del Codro Ipese ma Domenicali va a segno con un jab destro direttamente sul naso dell'avversario quindi buon punto per il pugile in divisa rossa ricordiamo match sulla distanza delle tre riprese da tre minuti l'una arrivano anche dall'angolo del Fielders Boxing Team i consigli di Massimo Marchetto altra combinazione di Domenicali prova a rispondere il Triestino ma che va a segno con un scambio di ganci destri cominciano ad accusare anche la stanchezza sia Luciano Domenicali sia Francesco Petronio poi adesso uno slancio in chiusura di secondo round tocca a Petronio adesso andare all'attacco perché sa di essere in svantaggio in questa ripresa il pugile Triestino ancora Domenicali che prima Lega poi si allontana per mandare a vuoto la lunghezza del jab dell'avversario schermaglie colpi colpi di incontro ma nulla da segnalare in questa fase finale del round con Domenicali che adesso è alle corde ma Petronio non riesce a entrare nella guardia del pugile friulano pochi secondi alla chiusura di questo secondo round che darei almeno per quanto riguarda il mio personalissimo cantellino in vantaggio a Domenicali terza e ultima ripresa tra Luciano Domenicali angolo rosso contro Francesco Petronio angolo blu Domenicali prodotto del fearless boxing team di Codroipo mentre Petronio parteggia per il boxing club 2006 di Trieste Domenicali in vantaggio nel mio cartellino però in questi match gli out ovviamente ci si può tenere di tutto Petronio prova a entrare nella guardia dell'avversario una serie di pugni combinazioni destro sinistro al caschetto un po' scomposta la difesa dell'allievo di Massimo Marchetto che adesso prova a reagire e alle corde Domenicali ma non insiste Petronio quindi si ricomincia centro ring stanchissimi entrambi i pugili non che fino a questo punto abbiano dimostrato chissà quale capacità tattica però adesso stanno veramente attaccando alla rinfusa a caccia di quel colpo risolutore che potrebbe che potrebbe decidere le soldi del match ci ha provato Petronio gli ha risposti domenicali ma ormai legano soprattutto per stanchezza i due avversari al centro del ring gancio sinistro i domenicali poi un Jeff sinistro che non va a segno è andato a vuoto altro gancio poi un montante di Petronio direttamente al colpo dell'avversario è qui colpo dietro la testa non si può fare si riprende due colpi d'incontro poi la combinazione per domenicali che adesso viene chiuso all'angolo a vuoto un Jeff destro poi sulla colpa di distanza vedo un attimino più convincente Petronio che adesso va a segno con un colpo d'incontro gli risponde domenicali altri colpi d'incontro poi forse un gancio all'altezza cintura di Petronio che però l'arbitro non ha avvisato e sta per concludersi anche la terza e ultima ripresa tra Francesco Petronio in blu e Luciano Domenicali in rosso eccolo qua il gong che mette fine all'incontro e andiamo al verdetto dei giudici è arrivato anche il verdetto Domenicali contro Petronio Domenicali in rosso vince il contro i pese contro Francesco Petronio e complimenti anche all'allievo di Massimo Marchetto Domenicali 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 Domenicali